ho avuto un mutuo la cui rata era il pil dell'angola praticamente e che ho incredibilmente estinto quindi parlo anche a cor leggero cosa si prova ad essere al centro di una delle vicende più dibattute e rilevanti anche dell'attualità del nostro paese sicuramente è stata un'operazione molto difficile abbiamo lavorato tantissimo quindi siamo molto contenti e chiaramente siamo stati premiati perché questo va da sé sembra inutile anche sottolinearlo un po ridondante come messaggio però ha fatto bene insomma ad evidenziarlo bene scherzi a parte noi vi ringraziamo vedo che c'è una squadra immagino che poi sia ben più meno più numerosa però grazie per averci portato tutta questa sorridente rappresentanza avvocato no grazie a top legal questo volevo dire e a lei in particolare sono di caserta e non di livorno è molto è molto gentile lo apprezzo molto doppio lavoro grazie grazie a tutti